Per accedere ai segnali operativi che ogni sera il server di Traderlink prepara, analizzando migliaia di titoli, è sufficiente premere il bottone Cloud, che trovate nel menu principale di Visual Trader. Compare questa, che è la videata del Traderlink Cloud, e cioè la stessa identica videata, per quantità e qualità di servizi, a cui potete accedere anche tramite il normale browser internet o anche da smartphone tramite la nostra app. Il contenuto di questa sezione è spiegato in un altro video. In questo caso scendiamo fino alla sezione Servizi Premium, che può contenere o servizi di prestigiose terze parti, che sono in vendita in questo caso, oppure possono essere servizi elaborati direttamente dai server Traderlink. Qui abbiamo scanner, che ogni sera cercano candele giapponesi, formazioni di prezzo, trading system di varia natura sui mercati Italia e America. Migliaia e migliaia di titoli, infatti ogni sera, vengono analizzati su dati end of day per fornirvi delle indicazioni che voi potrete utilizzare o meno per prendere decisioni di trading in totale vostra autonomia. Apro questo segnale, un trading system sul mercato Italia. La spiegazione qui, secondo me, valetta attentamente. Abbiamo infatti utilizzato alcuni indicatori molto conosciuti, molto noti e con questi indicatori abbiamo realizzato una decina di trading system, che ogni sera vengono applicati su tutti i mercati e in questo caso l'applicazione è sul mercato italiano. Questo filtro di ricerca è già impostato ragionevolmente, quindi vi mostro i segnali degli ultimi 5 giorni, purché abbiano un punteggio, un rank di Traderlink di almeno una stella. È un'impostazione ragionevole perché questo toglie tantissimi segnali che magari non hanno grosse basi statistiche per essere analizzati ulteriormente. Scrollando, scendendo verso il basso, abbiamo qui i segnali più freschi e via via di seguito quelli elaborati precedentemente. In questo caso noteremo ad esempio che ci sono segnali apparentemente doppi, questo in realtà è normale perché è il caso di trading system che vengono chiamati stop and reverse. Quindi un trading system come per esempio questo, basato su uno stocastico che è sempre sul mercato, per cui come prima cosa ha segnalato l'uscita dallo short che aveva aperto evidentemente in passato e contemporaneamente ha aperto l'ingresso long per la prossima barra, quindi l'apertura del giorno dopo. Queste sono le indicazioni macroscopiche. c'è questo bottone esegui operazione che ora non è attivo, ma tra poco potrà essere cliccato per eventualmente aprire un'operazione basata su questo segnale. Qui troviamo delle indicazioni statistiche di massima elaborate dal server. Questo ha tre punti, tre stelle trader link su cinque, presenta alcuni dati macroscopici, non è un trading system eccelso, ma probabilmente merita di essere esaminato un po' meglio. Apriamo quindi le statistiche estese, sono le stesse che trovate anche su Visual Trader, quindi troviamo profitto totale netto, fattore di profitto, profitti perdite, commissioni pagate, in questo momento sono elaborati a commissioni zero, questo chiaramente influenza molto poi il risultato finale, poi ci sono operazioni vincenti, perdenti, percentuali, consecutive, quello che insomma vi aspettate da un report di un trading system. Oltre al report completo che ricalca quello di Visual Trader, ci sono anche dei grafici, richiedono qualche secondo per caricarsi, in cui viene mostrata ad esempio l'equity line di questo trading system, così da potervi rendere conto più o meno delle caratteristiche comportamentali generiche di questo trading system e sotto abbiamo appunto i rapporti profitto perdita e il numero di operazioni vincenti e perdenti a disposizione su ogni titolo italiano o americano.